Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di questi brevi tutorial di Mount & Blade Bannerlord In detto vi ringrazio per gli episodi precedenti, sono stati molto seguiti, ho avuto molti commenti e vi sprono davvero a commentare sempre perché è davvero rincuorante il vedere che siano serviti a qualcuno Comunque lanciamoci subito su quello che è un tutorial base per il commercio in Mount & Blade Bannerlord In detto dovete sapere che il commercio è uno dei modi più importanti per fare tanti soldi all'inizio del gioco E per commercio io intendo principalmente commercio manuale, oggi parleremo del commercio manuale Perché all'interno del gioco di Mount & Blade Bannerlord ci sono anche altre tipologie di commercio che sono date dalle carovane e dai workshop Cioè i laboratori insomma in cui vengono prodotte degli oggetti Commercio manuale si intende andare ad acquistare dei prodotti da una città A, portarli a una città B e venderli a un prezzo rialzato Intanto una cosa fondamentale che dovete vedere è quello che viene indicato nell'iconcina accanto all'oggetto Allora in questo caso siamo in un villaggio E torniamo un attimo indietro Tenendo il mouse sopra possiamo già subito vedere che questo villaggio produce delle mucche In più già visivamente dalla mappa ogni villaggio ha accanto l'unità di cose che produce Quindi qua vediamo delle mucche Qua accanto questo produce flex se non sbaglio No grain Comunque vedete che c'erano dei cerali Questo produrrà del pesce Vedete che infatti c'è la zona del pesce Questo qua produce clay o iron? Iron perché c'è una miniera qua E via dicendo E' già comunque visibile ma si può leggerla Dicevo appunto torniamo qua Nella lista dei prodotti che possiamo acquistare Vediamo indicato appunto qua il prezzo Ma non è tanto importante leggerlo qua E' più importante leggerlo da questa schermatina qua Perché già la colorazione che indica il prezzo Può darci un'idea di quanto può essere conveniente o meno acquistarlo O nell'altra parte della schermata venderlo In questo caso la colorazione è normale Un gelino normale per cui è un prezzo medio per l'acquisto Se noi vogliamo ricavarci del profitto Non ci conviene comprarlo a un prezzo medio Ma ci conviene comprarlo a un prezzo basso In cui ci permetterà di fare un ricavo maggiore Anche il burro è a un prezzo medio Il formaggio è a un prezzo medio E le mucche sono un altro discorso Ne parleremo troppo Le mucche come i cinghiali Cioè i maiali E le pecole Sono un discorso a parte Come potete vedere Se vado nei miei oggetti Nei miei trade goods Succede lo stesso discorso Qua potete vedere che avendolo Lo venderei a 6 E in più tenendo sopra il cursore Mi dice Ehi lo vendi il 40% più basso della media Quindi insomma non conviene venderlo Perché noi vendolo Vogliamo venderlo Quando invece è rosso Quindi quando il prezzo è superiore a quello della media Questo è più basso Questo è più basso La lana per esempio potete vedere qua È leggermente più cara del solito Quindi in questo caso ci torna utile Perché vendere la lana in questo villaggio qua Ci produce più guadagno Che non venderla in un altro villaggio In cui è giallo o è verde il prezzo Mentre invece il resto è giallino Ora io sapendo già Quanto è il valore medio della lana Vi legherò poi dopo nella descrizione Una tabellina In cui ci sono la variazione Più o meno la fluttuazione dei prezzi Ma pian piano si imparerà Cioè lo imparerete anche voi Quali sono dei prezzi abbastanza buoni La lana l'ho venduta anche a 59,60 Quindi so che posso comunque tenermela Ho ancora parecchio spazio nell'inventario Come potete vedere Per cui posso tenerla E non mi conviene comprare niente Il discorso a parte Che stavo facendo È per il bestiame vivo Il bestiame vivo È un altro tipo di prodotto Che si può vendere e comprare Ma non è un trade goods standard Quindi non viene indicato La variazione di prezzo qua Non viene indicato La percentuale di più caro o meno caro E non viene indicato Se è verde o rosso Come allo stesso modo Non succede per le armi Non succede per le monte E per gli elementi Insomma tutti equipaggiabili Solo questi qua in mezzo Che sono trade goods Di cui alcuni sono consumabili Il cibo Altri invece no Quindi per esempio Il flex non è consumabile Come potete vedere La lana non è consumabile E facciamo attenzione ovviamente Che tutti gli cibi consumabili Verranno consumati dal nostro esercito Quindi è probabile che Ce ne ritroveremo Ad andare avanti a lungo Prima di venderlo Con meno unità Detto questo Un'altra cosa importante Per il commercio manuale È il fatto che Dobbiamo avere abbastanza spazio Nell'inventario Perché non subito Troveremo la città A cui poter rivendere Quel tipo di risorsa là O magari La troviamo Ma non ci guadagniamo abbastanza O ci guadagniamo troppo poco Per quello che è stato Lo spostamento Per cui conviene Sempre avere parecchio Spazio nell'inventario Lo spazio nell'inventario Viene aumentato Dalle monte Che abbiamo Libere Nel nostro inventario Quelle che consiglio Che aggiungono Molto più spazio Sono i Sumter Horse E le mule Cioè i muli I Sumter Horse Sono più economici Rispetto ai mule E Che potete vedere Già anche qua Dal prezzo Potete trovarli Un po' in tutte le zone Nel centro della mappa Che producono cavalli Queste aggiungono Ognuno 100 Alla capacità dell'inventario Gli altri invece Hanno 10 20 Che aggiungono E costano di più Quindi Questi due Sono quelli che in assoluto Convengono di più Per esempio Sumter Horse Ho trovato vari posti In cui se ne compra Uno a 35 40 monete Quindi Non tanto Non è tantissimo E In più Pian piano Vi accorgerete anche voi Che facendo soldi Avrete possibilità Di comprare dei cavalli Quando finirete In qualche villaggio Che ha una produzione Di cavalli Ce n'è abbastanza Nella zona centrale Della mappa Adesso Mi pare Forse No Forse un po' più In basso Qua Sì Midlands Palfrey Producono cavalli Che potete vedere qua Quindi È probabile Che ne troviate A basso prezzo Ogni tanto Riuscite a trovarne Anche sconfiggendo Dei piccoli parti Di loot O di Banditi Questo qua È il discorso Villaggi Andiamo invece Adesso In una cittadina Qual è la cittadina Più vicina Qua Andiamo qua su Adiatman Ora adesso Io vado veloce E non mi fermo Nel mezzo Ma normalmente Quando voi avete Pochi soldi È importante Ottimizzare Gli spostamenti Per cui Tutti i villaggi Che sono in mezzo Io vi consiglio Di visitarli E vedere Se potete Comprare qualcosa Poco O vendere qualcosa Tanto E Inizialmente Quando avete Poco spazio Nell'inventario Vi consiglio Di differenziare Il più possibile Su Tipi di Prodotti Differenti Perché magari Nel villaggio Successivo Non trovate Quello che vuole Il grano Ma magari Neanche Tra due Neanche Tra tre Tra quattro Tra cinque Tra sei Per cui Se vi riempite Tutto Nel ventare Solo di grano E non trovate Lo spazio Dove vendere Il grano Rimanete bloccati E perdete Solo soldi Perché Mantene le truppe Comunque Vi costa Dei soldi Quindi Spaziare E in più Adesso magari Parleremo Un attimo Di quali sono Le risorse Che conviene Di più Comprare E quali Conviene Di meno Comprare Allora Adesso Siamo in una città Come potete vedere Ci sono un sacco Di altri oggetti Qua nel commercio Nel mercato Che possiamo comprare E anche Divendere Ma questi qua Non conviene Perché è molto più difficile Stabilirne Qual è il prezzo Buono Per l'acquisto E qual è il prezzo Buono Per la vendita Allora Vediamo qua Per esempio Che il pesce Potrebbe essere Conveniente Comprarlo Perché 10 È abbastanza Basso Ma si può trovare Di meglio Il grano Non conviene Comprarlo Il burro Non conviene Eccetera 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 No no Non mi sono soffermato Finora Su quello che c'è scritto Qua sotto Cioè Sui trade rumors I trade rumors In genere Non sono Da prendere In considerazione A meno che Non parlino Di una città Cittadina Vicina I trade rumors Sono Quello che vi ricordate Di avere visto Come prezzi In quella zona Oppure In livelli più alti Di trade Quando ci sono Delle abilità Specifiche Sbloccate Quello che Il tuo workshop O la tua carovana Che è passata di là Ha visto Che era Come prezzo Molto spesso Questi si riferiscono A città Molto distanti E Il mercato Fluttua Nel senso che Ad esempio Se noi Vediamo Qualcosa di cui Abbiamo Tanto Tante unità Ecco Facciamo una prova Con il charcoal Cioè il carbone Vedete che adesso Il prezzo Di partenza È 48 A venderlo Se io ne vendo 5 Vedete che è sceso 47 46 45 43 43 Più ne vendo Meno guadagno A venderlo Perché ovviamente Loro si stanno Riempiendo di carbone E mi dicono No scusa Adesso Ne ho un sacco di carbone Non è che mi serve Più così tanto Come prima No Per cui Diminuisce Essendoci meno richiesta Ti offrono di meno Come prezzo Lo stesso discorso Avviene all'inverso Nel senso che Se noi iniziamo A comprare Tutto Di un determinato Prodotto Tipo Proviamo con il formaggio Il formaggio Ne hanno tanti Qua iniziamo con 34 Vedete che S'è il tuo 35 Adesso è 36 E adesso è 37 Per cui Cosa succede? Ci sono tantissime persone Oltre a noi Nella mappa Altre carovane Altri gruppi Che si spostano Che magari Hanno bisogno Di comprare del cibo Degli altri nobili O che magari Hanno delle cose Che hanno raccolto O catturato Dalle zone Che vogliono rivendere Se noi Prendiamo 100 unità Di Che ne so Io qua Uno che diceva Che costava poco Pesce Poi Tempo che arriviamo A Seonon È arrivata una carovana Che ne ha vendute 100 unità E arriviamo là A Seonon E ci guadagna Invece 12 E non 16 Abbiamo praticamente Sprecato il viaggio Perché alla fine Per comprarne A 10 qua E rivendolo Là a 12 Non vale per niente La pena Perché abbiamo guadagnato Troppo poco Per quello che è stato L'investimento E per quello che è stata La spesa Del mantenimento Della nostra carovana Per cui Io vi consiglio Trade rumors Inizialmente Inizialmente Soprattutto Ignorateli Dopo Quando ce li avrete Più dettagliati E magari Sapete anche Ricordare A memoria Queste città Dove sono posizionate Sulla mappa Inizia ad avere Un po' senso Però all'inizio Magari vedete Ah Quella è la roba La posso vendere A 500 Dall'altra parte La mappa A tempo che arrivi là Non vale più niente O magari La vendi A prezzo più basso Di quanto l'hai comprata Quindi No Non vale assolutamente La pena Ultima cosa Che volevo dire No Non mi ricordo più Mi sembra di Aver detto tutto Per quanto riguarda Per quanto riguarda Il commercio Un'ultima cosa Che mi viene in mente Per quanto riguarda Le città Le città Sono collegate A un determinato Tipo di Villaggi Per esempio Qua potete vedere Che su Diatma Ha come collegati I villaggi Di Alosea Adesso non posso Spostare il mouse Perché se no Si toglie La finestrella Di Alosea E Ierakos Che sono appunto Alosea qua E Ierakos qua Quindi cosa vuol dire Che quello che producono Alosea e Ierakos I villaggeri Cioè Gli abitanti del villaggio Lo portano A Diatma Per venderlo Per cui Se Alosea Ha abbondanza di pesce E Ierakos Ha abbondanza di cavalli In questo caso Diatma avrà In genere Abbondanza di quelle due Tipologie Di prodotti Per cui In effetti Abbiamo visto Che il pesce Costava 10 Qua Probabilmente Se andiamo Dall'osea Costa ancora meno Perché è il villaggio Che lo produce Il punto Il punto negativo Dei villaggi È che Allora Ha un punto positivo È che in genere I prezzi sono più bassi E i prezzi di acquisto No È lo stesso prezzo E i prezzi in cui vendiamo Sono più alti Rispetto alle città Però Ah e tra l'altro Seconda cosa positiva Non cambia In genere Il prezzo A cui compriamo Perché come potete vedere Posso comprare tutto il pesce Me lo venderanno Sempre a 10 Non so se è un bug o cose Ma attualmente è così E allo stesso modo Se io voglio vendere Il carbone Continuo vendolo a 45 Penso che sia un bug Però attualmente funziona così Ed è una cosa positiva Perché se abbiamo un'unità Cioè se abbiamo Se vogliamo fare Un mega acquisto di pesce Perché lo troviamo a 7 Possiamo comprare Tutto il pesce Di quel villaggio E lo pagheremo Sempre a 7 Mentre il città Come abbiamo visto prima Non funziona così Il malus Molto molto importante È il fatto che Il villaggio Ha solo mille monete Di budget Che è molto meglio Rispetto a Mountain Blade Warband Però ha solo mille monete Per cui non possiamo Vendere Tutto A profusione Perché come vedete Mille Mille Di più di mille Non possono darci Se noi proviamo a cliccare Done Ti dice Ehi Il commerciante Non ha abbastanza soldi Per pagarti Sei sicuro di dargli Tutta questa roba Che non te la sta pagando E ovviamente Tu gli dici No A meno che non vuoi fare Della beneficenza A villaggio A caso Oltretutto Se gli consumiamo I soldi Ci metterà Un tot di tempo Per poterli recuperare Perché ovviamente Loro dovranno produrre Delle risorse Che andranno a vendere La città E quindi torneranno Con dei soldi Fino ad arrivare a mille Per cui Se noi ci torniamo Magari una settimana dopo Dopo aver razziato tutto Il denaro che avevano Magari non hanno mille Magari hanno settecento Hanno seicento Quindi hanno meno possibilità Di comprare Quello che tu hai da vendere Però io suggerisco Soprattutto all'inizio Fermatevi nei villaggi Perché hanno dei prezzi migliori E potete fare degli affari Davvero molto molto importanti E in più Ottimizzate gli spostamenti Perché se da città a città Ci mettete magari Una giornata Fermandovi nei villaggi Vuol dire che Quella giornata Non è andata persa Perché avete guadagnato Dei soldi nel mente Facendo così Livellerete Quello che è l'abilità Di trader Che è un'abilità Che è sotto Il La branca Di Social E tra i dati Tantissime cose Importanti Che possono aiutare Questo tipo di caratteristica Ma di questo Parleremo poi Magari in un tutorial Più avanti Quando parleremo Del commercio avanzato Parlando di Workshop E Carovane Tra l'altro Cosa che Ultima cosa Che vado a dire Chiudendo Il commercio manuale È importante Anche perché È fattibile Durante tutto L'arco del gioco Anche quando sarete In guerra Se vi fermate In un villaggio A riposarvi O per Guardare se ci sono Delle missioni O per Perché vi è necessario E avete delle cose Nell'inventario Comprate Vendete Cercate sempre Di ottimizzare Quello che state facendo Mentre invece Come vedremo Più avanti I workshop E Le carovane Possono essere Fortemente Impattate Da situazioni di guerra Mentre invece Il commercio manuale No Semplicemente hai della roba Nell'inventario Te la porti indietro Eccetera eccetera Occhio a non sforare Troppo del peso Perché Se sforate troppo di peso La vostra velocità Si rallenta Tantissimo E Non è per niente Conveniente Perché Anche se ci sono Dei gruppi Da cui volete scappare O dei gruppi Che volete raggiungere È impossibile E spenderete Più soldi Per gli spostamenti Piuttosto che spendere Più soldi Per spostarvi lentamente Comprate un cavallo In più Detto questo Io spero di essere Stato abbastanza chiaro Come sempre Scrivete nei commenti Se avete dei dubbi O se ho sbagliato A dire qualcosa O se avete dei suggerimenti Da aggiungere Rispetto a questo qua Io vi invito A lasciare un mi piace E iscrivervi al canale Se per caso Non l'aveste già fatto Ci vedremo Prossimamente Probabilmente O con una live O con un altro tutorial La mia ipotesi È quella di fare Un tutorial Su le tattiche Di combattimento E su movimenti avanzati Del cavallo Ci vediamo Prossimamente Ciao a tutti E grazie per aver seguito Questo episodio E grazie per aver guardato